Presentata una proposta di concordato per l'acquisto della Castello di San Mezzano, l'annuncio oggi della Comitato Save San Mezzano, ovvero Salviamo San Mezzano, che sia la volta buona per il tribolato destino della celebre castello sulle colline di Lecce e nella comune di Reggello, l'intera proprietà ancora oggi nelle mani della San Mezzano Castle SRL da alcuni mesi è finita nuovamente nella procedura gestita da un curatore fallimentare anche se fino adesso non c'erano state aste per la sua vendita. Adesso l'indiscrezione che arriva dalla Comitato Save San Mezzano, ci sarebbe infatti una proposta di concordato d'acquisto. Finalmente, dopo mesi di indiscrezioni e speranze, si legge in un post Facebook della Comitato Save San Mezzano, siamo entusiasti di annunciarvi che è stata presentata ufficialmente una proposta di concordato per l'acquisto della Castello di San Mezzano. Ci risulta, prosegue il post, che questa proposta sia stata avanzata da una solida società che fa capo ad una famiglia imprenditoriale fiorentina che opera a livello internazionale e che sarà valutata a breve dalla curatore fallimentare della Castello. La speranza, prosegue il post su Facebook, è che questa iniziativa possa rappresentare la tanto attesa svolta per la salvaguardia e il rilancio di questo gioiello architettonico che ha visto negli anni tanti tentativi arenarsi nel nulla. La comunità locale e tutti coloro che hanno a cuore il patrimonio culturale possono finalmente guardare con ottimismo a questo possibile nuovo capitolo nella storia della Castello di San Mezzano, auspicando che sia davvero la volta buona per la sua definitiva rinascita, conclude il Comitato Save San Mezzano. L'edificio principale è una costruzione eclettica con prevalenza di stile orientalista, effetto della ristrutturazione avvenuta nell'Ottocento di una grande fattoria edificata nel 1605 per volere della famiglia d'Aragona. La storia del luogo è però più antica e viene fatta risalire all'epoca romana.